Un nuovo video di Brawl Stars Come al solito Prima caricava benissimo Inizia a registrare E non carica più Come sempre Vabbè Aspetta ma chi è questo album qui? Vabbè non mi interessa Eeeh Eeeh vabbè Intanto apriamo la cosa del negozio Gratuita E voglio un brawler Voglio un brawler Un brawler No Qua Secondo giorno degli eventi Che bello più 100 per il club Chef è il mio club Allora Eeeh La vendetta di Luis Si riuscimano il nuovo giorno Ma perché non mi si sono ripristinate? Vabbè Mi si volevano ripristinare E allora faccio duelli Eeeh Quelli di ieri Aspettiamo Ok Dynamax Dynamax contro Frank Dynamax vuole vincere Ma Dynamax non vincerà Scusate se l'ho detto Scusate se l'ho detto Ma come? Nooo Mi da due per il gadget Credo perché ho perso Ok Stavolta Ho vinto io Magari mi si ricarica il gadget Spero Nooo Rimarrò con due gadget Per tutto il tempo Io credevo che poi mi si ripristinava Opla Ho vinto il round Mi sono anche tenuto E ho E sono rimasta anche con la super Mi sono accorta che Il mio avversario è tutti Con i capelli bianchi Nooo Ho finito il gadget A parte che di questo Non ce l'ho il gadget Io quindi non mi interessa Aiuto Ho vinto Credevo che avrebbe vinto Quello col nome strano Perché non è la mia lingua Per questo ho detto Quello col nome strano Che bello Brawl Pass Dai Stavolta è un brawler Lo voglio il brawler Come sempre Non ne ho trovato uno Non lo so Quale migliorare Voglio migliorare Ash Se ti posso migliorare Ok Vediamo le missioni Allora Con Frank Credo di averle Finite le missioni Ne facciamo Allora Lì posso sconfiggere 24 nemici Ehm Vinci 8 battaglie Con Carl Per 500 Io Sinceramente Lo farei Lo farei No dai Se vabbè Due cose Ehm Vabbè No Coronnello Ringio Non voglio Vestare contro di lui Carl contro Coronnello Ringio Infatti Quindi si sa già Chi ha vinto Sally Già Potrebbe avere Più speranze Di vittoria Magari se non sei incantato Ce le ho le speranze Ma parità Sì parità Però mi è andata male A me quella parità Almeno però Così posso sopravvivere No Non ce l'ho fatta Non ce Lo Va Non ce l'ho fatta No 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 Ma che sta succedendo Ma io mi sono accorto di una cosa Ehm Che quando tu giochi In duelli E perdi Perdi Una coppa Per ciascuno No Dai Non è che mi piace Questa cosa Questa cosa Ehm Non voglio giocare Sto registrando Non gioco Con nessuno Andrì che registro Anzi Con qualcuno Gioco Con gli avversari No dai No dai Gelindo No Gelindo No Va bene che ti piace Questo brawler Cioè nel senso A lui Ma non me lo mettere Contro Carl Contro tutti Contro nessuno Tu me lo devi mettere Questo brawler Ma perché Non mi metto I brawler Cromatici Soprattutto Va bene che Ne ho messo Opla Non basta Non devo pensare Per le missioni Tutto il tempo Devo pensare Anche per le mie coppe Perché di questo passo Le coppe Le finiamo tutte Che poi manco Le finiamo Le finisco solo io Le coppe Ok dai Il segreto È ghiacciarlo Basta Mi sono seccata Mi sono seccata No Non voglio Giocare E dai Basta Allora Te ti metto Frank A te metto No a te Lascio lui E qua Metto Ash Ecco Adesso Questa è una squadra Forte Biocromatici Più Un epico Che è molto forte No quello Fang No Fang No Vabbè Ash Contro Nita Non lo so Chi vince Ma per adesso Nita Ha vinto Nita No Voi ora Mi spiegate Come ha fatto A vincere Nita Contro Ash Magari perché Lei era di livello 7 E io di livello 5 No 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 Ma che ha messo Va bene Contro Ash Perché è di livello O 5 O 6 Ma anche Contro Frank No Ah ok Contro Lu Vinco Però Certo Perché questo Ghiaccio Solo per questo Vito Ghiaccio 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 Sare Ghiaccio 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 Vinci E ho perso Perché non posso mettere Tutti Lu Si può mettere Tutti Lu No Aspetta Si può mettere Tutti un brawler Vediamo Frank No Io voglio Lu Voglio mettere Lu Mettiamo pure Lu E mettiamo pure Lu No Non puoi sciogliere Più di un brawler Vabbè Abbiamo giocato Tanto Mi ha chiesto di giocare E alla fine C'è stato E' passato Tanto tempo Da quando Iniziate Il video E adesso Finisce il video Ricordatevi di Iscrivervi Mettere like E scrivere un commento Se vi è piaciuto Ciao